ciao benvenuti o bentornati sul mio canale oggi una ricetta particolare adatta alla pasqua una colomba velocissima e semplicissima in questa ricetta infatti non prepareremo un lievitato tradizionale che richiede tantissime ore ma otterremo una colomba dal sapore identico a quello di una colomba classica lievitata ore e ore ma dà la consistenza più simile ad una ciambella o ad un ciambellone quindi non è una colomba tradizionale ma è una colomba che la ricorda moltissimo è una colomba che si prepara in pochissimo tempo usando questi ingredienti chiaramente se state cercando la ricetta classica della colomba di pasqua non è questa però vi assicuro che il risultato è ottimo e porterete in tavola a pasqua un dolce buonissimo che piacerà a tutti una volta arrivati alla fine del video se la ricetta vi è piaciuta thumbs up e commenti iscrivetevi al canale per nuove ricette ogni settimana e viaggi in giro per il mondo se volete visitate anche il blog lacochinasopraffina.com dove troverete non solo questa ricetta ma tantissime altre sia pasquali che non tra le tante ricette anche quella della colomba tradizionale quindi se volete ve la linko in descrizione la trovate sul mio blog lacochinasopraffina.com lo so che siete curiosissimi quindi andiamo in cucina prepariamo questa colomba di pasqua leggermente diversa dalla tradizionale ciao 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 ciao